Ci troviamo davanti al comune di Mascali, dove presto incontreremo il nuovo sindaco di Mascali, il dottore Luigi Messina. Proclamato sindaco il 5 giugno scorso, ha già iniziato la sua attività amministrativa. In particolare, gli abbiamo chiesto quando completerà la sua giunta comunale. Ha confermato i nomi dei tre assessori che aveva già detto in campagna elettorale, quelli del medico, la dottoressa Virginia Silvestro, quella dell'avvocato penalista Alessandro Amante e quella del sindacalista Will Nino Marino. Per quanto riguarda la nomina dell'aggiunta, per una decisione politica e anche per l'attesa nella quale siamo per la proclamazione dei consiglieri comunali, abbiamo deciso di rinviarla di qualche giorno perché aspettiamo il riscontro da parte del magistrato che sta guardando tutti i verbali dei seggi e pertanto farà la proclamazione. Per quanto riguarda l'assessore, il quarto assessore che lei giustamente non ha potuto citare sarà deciso dal momento in cui verranno proclamati i consiglieri. Per questo siamo in attesa di questa proclamazione. Poi avverrà la prima giunta e anche la prima convocazione di consiglio. In questa prima convocazione del consiglio verrà eletto il presidente del consiglio e pertanto sono delle scelte a divenire. Necessariamente dobbiamo attendere questo percorso. Io ritengo che, siccome ho visto giustamente e sono conosciuti a tutti i nomi dei consiglieri comunali, che ritengo di poter dire che è una buona squadra di consiglio, sia la squadra che è stata eletta come maggioranza, che sono i nostri 12 consiglieri subventi, e anche l'opposizione, che conosco buona parte di essi perché sono persone molto attive nel territorio e che comunque insieme ai consiglieri maggioranza sicuramente faranno quello che è il loro dovere nel migliore dei modi all'interno del consesso consigliare. Perché è ovvio che una buona opposizione costruttiva insieme a una maggioranza attenda ad ascoltare e a portare avanti il proprio programma sarà quel elemento essenziale affinché questo territorio esca fuori da quel modo di essere visto come se fosse un territorio e terra di nessuno, mentre è un territorio che ha il suo rapporto con le istituzioni in modo molto forte. Tant'è vero che ci sono stati gli incontri che io ho già avuto in questi giorni con le forze dell'ordine, oggi gentilmente è venuto anche il comandante della finanza a trovarmi in comune. Abbiamo parlato e in parte per quello che era possibile nelle nostre competenze diciamo pianificato quello che può essere l'operatività dell'ente anche per quello che è la salvaguardia del territorio e pertanto ecco il tutto verrà svolto secondo quei criteri di legalità che sono necessari affinché si riavvii una macchina amministrativa che è rimasta ferma in questi anni.